arrivo anch'io ma sono quelli della taglia dove stanno? eh uno l'ucciso ecco la 33 maledetto morti uno qua sulla zip ce n'è un altro dove? eh non lo so ma ho sparato ma è qua solo qua purta troia ma l'ho sparato me l'ho buttato giù quanti ne sono rimasti? qua qua eh non li vedo da qua sono qua sotto vabbè morto bravo fatto? un colpo in testa ed è andato come si è fatto questo cazzo di palloncino ragazzi? è una merda io li odiavo io morivo sempre ahah no io passavo più tempo a toglierli che ma io non lo voglio più questo palloncino come faccio a toglierlo mi sembra la nana lavo ce la devi schiacciare forse con ero e tre eh no eh cazzo però non schiacciassessi in alto se l'hai medichit con ero e tre mi sembra no fatti sta pizza no fai te medichit non usare che infatti non mi fa le pizza a me ho bisogno di un po' di pizza basta va bene che si grugge ah io la cosa dei palloncini non riesco a trovarla ma meglio di no che lo so però voglio fare una sfida che c'è? 20.000 punti eeeh quanta roba c'è qua ma è morto della gente ho trovato anche la chiave ma mano ferme con sto cazzo d'assalto funziona oppure no? io non vedo il tempo nooo eeeh sono pericottino ok niente c'è una chiave ma non serve un cazzo se volete qualcosa me lo compro io arrivo se c'è un cucine a pompa quello mitico lo prendo simo volentieri c'è quello infiltratore viola se no c'è dente di raffinato epico io c'è quello che piace a te noo però me lo tengo quello automatico specialista eh quello che eh l'ho trovato a caso c'è un culo rotto per forza la prova a caso una cassa a caso così nooo in una cassa ah normale ah normalissima dove la gente ma sto più di qua sai no mi sa che è più addietro che spara non so neanche dove sei ma mette la taglia ma mette la taglia ma siamo distanti si infatti veniamoci ragazzi vengo da voi venghino venghino esatto non so quanto danno c'è la cassa oro per questo oh bravo che vi siete nascosti nei cassonetti che avevo la sfida eh prendo la taglia no già ce l'abbiamo niente non la prendo eh vedo la di doro non so se c'è più nooo non so niente qualcosa dalle chiavi mi servirebbe un marasma nooo invece di sto dmr lì c'è il marva doro nelle chiavi cazzo me lo prendo subito non ho niente tipo cecchino però vabbè io che vuoi lì cecchino mi do io un dmr blu se vuoi per il pompa ora la valigetta voi volete? che sei io l'avete presa ok io ho due jump ok mi sparo a me se vai le jump ciao ragazzi venite da dove? da dove? ok giù lo vedo qua non c'è un po' di soluzione è morta e i suoi amici dove sono? va lì vanno c'è la taglia c'è la taglia sono qua sotto di sicuro eccolo lo vedo lo vedo dove? qua sotto ahhh a terra si è morto e gli altri? se abbiamo fatto di sicurezza ne ho fatta una e ne ho fatto di due potremmo andare all'antenna c'è un pacifista c'è un pacifista c'è un pacifista c'è un pacifista in tre anni di bambù si volete lì ha l'antenna visto uno e lì vabbè lo pusho vabbè lo pusho deve andarci anche con la jump ma Diego non si connette più a terra uno sono qui a lieto cazzo c'è pure la cosa qua per i succhi ok occhio perchè secondo me arriva un'altra gente qua quante kill mi avete potuto? timono non mi piace questo con le kill, te lo dico già adesso perchè no? no, non va bene, tu sei quello che lutta, non quello che fa le kill ogni tanto ci prendo un muro cos'è questo cazzo di libertà generazionale cazzo attiva l'antenne che cazzo hai fatto? quindi mi fa le kill cazzo ho fatto in quest'antenne e poi? basta adesso abbiamo la previsione dell'antenne direi di approfittare e andare in safe basta prendiamo i succhi prendiamo i succhi succhiosi e andiamo in safe ah cazzo no beppe non ti ha beppe non deve prendere vieni qua a vedere dove mi ha lanciato dove sei? vieni a vedere dove mi ha lanciato non ti vedo neanche vieni a vedere guarda dove mi ha lanciato nooo guarda vedi allora ti ho aiutato scusa ti ho aiutato io ho 6 schiaffobomba però mi sa che è meglio avere due succhi le mollate dai andiamo subito in safe avviccio a due armida vicino e una da lontano io vorrei un pompa blu ma se mi dai una mitragliatta oro ti do il mio pompa d'oro anche viola anche viola anche viola potrei accettarla no c'è un malasma blu se vuoi no ce l'ho adoro ah li lo vedo la si lo vuoi un malasma viola si ti posso offrire un malasma viola io allora io direi che con il loot ci siamo e do anche il pompa blu a ma trovo i palloni ma non li raccolgo ragazzi mi stanno sparando eh eh saranno i bot guarda che lì ci sono i bot io non mi metterei a fight back con i bot c'è uno qua c'è gente c'è gente o bot bot tutti morti c'è distruggere ste cazzo di telecamere maldette comunque il bot c'è la mitragliata d'oro c'è da lì la mitragliata d'oro c'è da lì la mitragliata d'oro c'è neanche il coso i bunker l'avete aperto? No lì la lasciamo lì la bunker è veramente che serve abbiamo tolto quattro e quattro e quattro tutti nei posti non c'è nulla andiamo a caccia di Cristiano c'è anche super bomb qui siamo in safe ragazzi adesso c'ho tutto d'oro io qui c'è una valigetta volete? no no la butterei sul ponte però beh bravo infatti ma poi ti allontani la via no no ma dobbiamo andare in safe lì non è safe stiamo qua tipo sul tetto che è in safe invece la prossima safe guarda e ti va che so se non ti va andiamo nell'altra safe poi ci sono dei palloncini timo poi ci sono dei palloncini eh li ho visti però non mi va adesso che se faccio cazzate muoio poi dovrei lasciar giù i succhi è un'arma d'oro la cosa non mi sembra furco basta dicio tutto c'è gente lì eh non so se un bot l'hai evidenziato pingato mi sa che è un bot perchè sta fermo si è un bot chi sono nell'altra safe cazzato scurriamoci non ci sono più porte ragazzi siamo in 18 e non è possibile che tento sparare ma saranno nella city guardate cosa c'è qua pistola silenziata doppia no sono due c'è anche il cecchino il cecchino viola va figlio io dov'è venga arrivo con anche colpi c'è di tutto vi lascio un marasma oro non so io ce l'ho già un marasma oro lo prendo io c'è di tutto io vado sul tetto a questo posto qua del cazzo che cazzo è sto cecchino ma è il mare ma è il mare ma è il mare bucayola davvero guarda il mare per il figlio della cecchina una fatica, lo lascio qui, lo lasciate qua, arrivo grazie, grazie a lei, che cazzo è una giunta? non fai una cosa scusa, ma perché? ah non è il marasma, è l'assalto, qual è lei di marasma? il marasma è l'assalto senza redotto, ah quello senza mirino? esatto, quello lì ce l'ho anche io ti garba quello? ce l'avevo già, ce l'avevo già allora, figlio io, oh oh, ti marasma ti garba non vorrei disturbarvi ma io penserei alla safe, si andiamo, andiamo verso la strada, qua ragazzi, qua da me, gente? si, è bianco, si sparano, ok uno è giù, arrivo, cazzo ma sei da solo, ok l'ho ucciso, ho formato, arrivo, 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 arrivo torna indietro, torna indietro, torna indietro, che ci siamo anche noi, come, come, giù un altro torna indietro, non è che è solo, è solo timo fa le kill, come, dove, dove, lo diveto, ah sì, lo vedo ok, tutti noi, tutti, il corso è chiuso andiamo lì? un po' rischioso, c'è un cecchino qua dovremmo andare a castello, ragazzi, il prossimo sito è il castello andiamo, andiamoci, andiamoci, andiamoci in 10 eh, ragazzi ma andiamo a prenderci in punto alto, 3 team in 10 eh, 11, 11 11, non ho restato quel cesso si, bisogna andare su quella cazzo di torre avessi una jump cassa blu c'è il palloncino, se vuoi, eh bravo, stessi, aiutami il cazzo distrutto vabbè, arrivano, 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 qua, qua, qua non manca l'altro eh insieme alle sale simo anche il bot ho chiamato pigliettivi la cadona dopo come lo chiami il bot? con feccia che è che spada? morto qua ragazzi, qua da me, qua da me, qua da me, qua da me mi sta facendo alle spalle ragazzi, alle spalle buona muori, morto bravissimi, mi piace tantissimo quando fate così non ci sto capendo un cazzo ok, 4 contro 1, dai, spacchiamoli qui ah, lo vedete, lo vedete, è pingatto, è qua sotto eh si, 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 si ma ne manca solo lui, eh si, si, sta sotto, è qua sotto il merda vai da spedio fatto, fatto come avete ammazzato, con la camicamera avete ammazzato? bravi raga così si fa, capito così